Migliaia di anni fa Il dottor Parnassus fece un patto con il diavolo Silenzio! Non ti interesserebbe fare una piccola scommessa, vero? Per ottenere l'immortalità Ne è passato di tempo Ma il prezzo concordato era troppo alto Gli ho promesso che a 16 anni Valentina sarebbe stata sua Ora, l'arrivo di un misterioso straniero Quale prezzo hanno i vostri sogni? Finirà per cambiare le regole del gioco Signore e signori, il dottor Parnassus Che stai facendo? Cerco di salvare la vita di vostra figlia, signore! Vuoi salvarla, no? Allora alziamo la posta in gioco, che ne dici? Voilà! Voilà! Il premio Oscar Hit Ledger Christopher Plummer Johnny Depp Colin Farrell Jude Law Un film di Terry Gilliam Nulla è per sempre, neanche la morte Parnassus L'uomo che voleva ingannare il diavolo Pel posts Moderna è per sempre, neanche la morte E' tuttiaremos Parnassus E' sp�